buonasera a tutti ben trovati bentornati se c'è qualcuno che ha già assistito ma già partecipato alla prima edizione di questo master due parole di spiegazione del del tema di questa sera l'omessa bonifica leo messi reati di omessa di omessa bonifica due ragioni di natura diversa la prima è una ragione come dire di natura civile per certi versi la questione bonifiche è una questione centrale sotto il profilo ambientale e sanitario in un paese come l'italia nel quale la contaminazione ambientale in interi territori è significativa e determinante la qualità di vita di tante persone e quindi le bonifiche che si facciano o soprattutto che non si facciano determinano a loro volta effetti importanti di natura ambientale e sanitaria in quei territori eh per dare un'idea di quello di cui sto parlando qualche giorno fa è stato presentato il sesto rapporto sentieri che è uno studio epidemiologico che si occupa degli effetti sanitari delle contaminazioni più importanti in vari territori di questo paese eh in particolare dei cosiddetti sin nei sinti di interesse nazionale eh peraltro vi parlo da brindisi che è uno di questi quarantadue sin il sesto rapporto sentieri ha ancora messo in evidenza anche in questo caso effetti sanitari importanti con elevata probabilità collegati a situazioni di contaminazione ambientale altrettanto importanti in determinati ma non pochi non esiguali territori di questo paese il che vuol dire che determinanti sono state anche molte volte le bonifiche e soprattutto le omesse bonifiche la seconda ragione per la quale vi voglio eh vi parlo stasera di omessa bonifica di reati di omessa bonifica è di natura più strettamente giuridica il tema delle omesse bonifiche il reato i reati di omessa bonifica sono eh paradigmatici del rapporto tra la vecchia tutela penale dell'ambiente quella per capirci ante 2015 prima della legge eh cosiddetta ecoreati e poi invece la tutela penale garantita proprio dalla legge ecoreati più precisamente il rapporto fra la tutela penale dell'ambiente garantita per così dire dal cosiddetto testo unico ambientale cioè il eh decreto legislativo 152 del 2006 e la tutela ambientale invece garantita dalla legge 68 2015 che ha poi introdotto i nel nostro codice penale i delitti contro l'ambiente nei quali ci siamo già occupati diffusamente nella prima edizione di questo master prima di venire al merito della lezione di stasera una precisazione rispetto alle alla questione domande a cui faceva riferimento Giuliana nella sua introduzione eh se ci stiamo con i tempi io volentieri risponderò a qualche domanda come dire indiretta se invece con i tempi dovessimo ritrovarci un po' stretti come non è eh improbabile che accada eh io adotterò la stessa impostazione che abbiamo eh seguito in occasione della prima edizione del master eh se ci sono domande io eh proverò a rispondere nei giorni successivi a partire da oggi sulle mie eh redi sociali eh con post interventi commenti in modo da rendere anche come dire un servizio pubblico per così dire ai partecipanti a questo eh a questa lezione perché eh tendenzialmente le domande o almeno molte domande sono di interesse di più persone rispondere in pubblico in maniera un po' più articolata un po' più ragionata magari può significare anche proseguire in qualche modo il discorso che apriamo questa sera eh e lo apriamo questa sera con una eh una citazione da un testo normativo molto importante soprattutto eh dei urepondendo per così dire cioè per la normativa che verrà mi sto riferendo alla strategia per il suo 2030 eh eh presentata dalla commissione europea un anno fa all'interno della quale si possono leggere queste tre righe illuminanti il tappeto magico al quale si riferisce la commissione europea è proprio il suolo che con le bonifiche ha molto a che vedere come ognuno di voi non faticherà suppongo a realizzare di suo da subito ma soprattutto come vedremo nel prosieguo di questa chiacchierata abbiamo accennato poco fa alla tutela penale propria alla tutela penale dell'ambiente naturalmente propria del cosiddetto testo unico ambientale. Stefano scusami scusami se ti interrompo riesci a mettere le slide in modalità presentazione eh? Per favore grazie. Grazie. Benissimo. Allora dicevo la tutela penale del eh eh testo unico ambientale è una tutela penale sostanzialmente formale se mi passate lo simolo e contravvenzionale che vuol dire formale vuol dire semplicemente questo uno è essenzialmente basata su limiti di emissione alla violazione dei quali scatta la sanzione penale per così dire indipendentemente dall'effetto concreto dall'effetto di danno che quella violazione ha comportato sulla matrice ambientale in questione ma c'è anche una seconda eh interpretazione dell'aggettivo formale con riferimento alla tutela garantita dal tua ed è questa la le sanzioni penali del tua a ben vedere non hanno come bene giuridico tutelato direttamente e in prima battuta l'ambiente le sanzioni penali del tua hanno come bene giuridico tutelato essenzialmente la potestà autorizzatoria della pubblica amministrazione a valle della quale al massimo si può immaginare una forma di tutela indiretta del bene ambiente ma nella misura in cui si punisce la violazione di un limite tabellare che per esempio è contenuto in un'autorizzazione o nella misura in cui si punisce la violazione di una prescrizione contenuta in un'autorizzazione o ancora di più nel caso più grave nella misura in cui si punisce l'esercizio di un'attività che è soggetta ad autorizzazione amministrativa in assenza della dell'autorizzazione stessa è evidente che si sta tutelando in prima battuta la potestà autorizzatoria della pubblica amministrazione tutela di natura contravvenzionale in che senso nel senso che praticamente tutte la stragrande maggioranza salve un paio delle fattispecie di reato contenute nel testo unico ambientale sono di natura contravvenzionale non vecchi non veda come usa dire che la natura contravvenzionale non è precisamente sinonimo di effettività della tutela per le millanta ragioni che sono proprie delle contravvenzioni del nostro ordinamento penale che sono le possiamo definire così senza tema come dire di forzatura enfatica sono reati di serie b a fronte dei delitti che invece sono i reati di serie a tipici del nostro ordinamento questa natura come dire secondaria per certi versi o comunque non è esattamente prioritaria del nel nostro ordinamento della contravvenzione a cascata produce una serie effetti concreti dalla possibilità di oblazione quando la sanzione penale sia alternativa cioè o la sanzione detentiva o la sanzione pecuniaria o addirittura quando ci ci si trovi di fronte soltanto ad una sanzione di natura pecuniaria all'altro effetto come dire devastante per definizione sotto il profilo dell'effettività della sanzione della contravvenzione ossia la prescrizione i termini di prescrizione in quattro anni aumentabili di un quarto in presenza di atti interruttivi quindi cinque anni al massimo la contravvenzione si estingue per decorso del tempo e quindi è evidente che è una non tutela anche sotto questo profilo quella che viene garantita da una sanzione da una fattispecie di natura contravvenzionale che è quella che è quella regolare all'interno del tua per venire più direttamente al tema della serata cioè l'omessa bonifica si deve far un cenno veloce ad una significativa variazione di registro per così dire che sia registrata nel nostro ordinamento ambientale nel passaggio tra il vecchio decreto ronchi e l'attuale testo unico ambientale con il decreto ronchi più precisamente decreto legislativo 2297 il reato di inquinamento di omessa bonifica aveva come presupposto della condotta un semplice pericolo concreto e attuale di inquinamento quindi la tutela penale era in qualche modo anticipata molto anticipata rispetto a questi parametri diciamo processuali e temporali che sono quelli tipici del tuo la bonifica postula un inquinamento che può di un determinato sito che può avvenire solo tramite il superamento delle cosiddette concentrazioni soglia di rischio le definizioni più significative in questo campo in questa materia le trovate nell'articolo 240 del decreto legislativo 152 del 2006 io qui vi ho riportato soltanto alcune delle definizioni più rilevanti ai fini nostri di questa sera per esempio le concentrazioni soglia di contaminazione le cosiddette csc che costituiscono il primo gradino il primo passo del potenziale ipotetico procedimento di bonifica disciplinato l'articolo 242 nel senso che il superamento di questi livelli anche in questo caso parliamo sostanzialmente di limiti tabellari il superamento dei livelli di contaminazione eh eh rappresentati dalle csc mette in moto eh non già direttamente il procedimento di bonifica in senso stretto ma mette in moto il procedimento di caratterizzazione di caratterizzazione del sito e di analisi di rischio sito specifica che la prima parte del procedimento di bonifica non è scontato che a valle di questa prima parte del procedimento poi ci sia effettivamente la fase della bonifica perché perché il diretto interessato il soggetto responsabile dell'evento di inquinamento nella misura in cui dovesse scoprire all'esito del eh degli della indagine preliminare per accertare i livelli di csc nella misura in cui dovesse riscontrare in questi csc non sono questi livelli non sono stati superati eh può limitarsi a ripristinare la zona contaminata e autocertificare anche se ovviamente questa autocertificazione poi è soggetta ad un controllo da parte degli enti preposti se invece riscontra a valle di questa eh indagine che lo stesso soggetto avrà realizzato un superamento delle csc si parte con il eh procedimento di il piano cosiddetto di di caratterizzazione e successivamente l'analisi di rischio sito specifica previa immediata notizia al comune e alla provincia il primo passaggio eh in ordine di tempo però in caso di evento potenzialmente inquinate è l'immediata comunicazione da parte del soggetto alla regione provincia comune al prefetto e l'attivazione entro le ventiquattro ore del delle misure delle necessarie misure di prevenzione a valle per tornare all'ipotesi della del superamento delle csc a valle della presa d'atto della constatazione del superamento delle csc si procede come dicevo con la caratterizzazione del sito con l'analisi di rischio sito specifica che serve sostanzialmente ad accertare le cosiddette concentrazioni soglia di rischio che sono quelle il cui superamento poi costituisce lo spartiacque rispetto al procedimento di bonifica o messa in sicurezza vera e propria